Salve a tutti, benvenuti ragazzi in questo nuovo video di Pokémon sull'una, molto breve di sfruttare gli altri sul canale di Rochette Allora ragazzi, quest'oggi sono qui per farvi vedere una cosa veramente molto molto carina Una specie di streghe che penso in pochi abbiano visto, perché l'hanno veramente messo nascosto quelli di Game Freak Sono veramente molto molto furbi Perciò ragazzi, entrando qui nella zona dove c'era insomma la prova di Mimicchio, dove c'era Mimicchio Totem Il supermarket a farò ogni edificio abbandonato Allora, voi potete vedere questa cosa solamente se non avete fatto ancora la prova Infatti ragazzi, dopo aver fatto la prova, adesso vi faccio vedere una cosa molto molto infame che hanno fatto Perché era veramente un'infamata, appena me lo sono accorto e ho detto no, no l'hanno fatto sul serio Quindi voi adesso andate fino in fondo ragazzi all'edificio abbandonato, questo supermercato E se vi ricordate qua c'erano dei bambolotti che si muovevano di pupazzi praticamente E qua c'era una porta, se vi ricordate, una porta dove c'era Mimicchio dentro Dopo insomma che avete concluso la prova, la porta sparisce Quindi voi non potete più vedere quella foto in questione Che hanno messo molto molto nascosta, ma veramente l'hanno fatto veramente benissimo questo momento Ragazzi, come vedete qua non c'è più la porta Ma io vi faccio vedere comunque di cosa sto parlando Ovvero ragazzi, se vi ricordate, a un certo punto si entra in questa porta particolare Dove troviamo poi Mimicchio ragazzi, si attiva il pokevisore Sullo schermo, sullo suono vediamo delle foto E una di queste foto ragazzi ritrae un Pikachu con un personaggio particolare Un personaggio che in questo mondo, il mondo dei videogiochi Pokémon non esiste O meglio, non l'abbiamo mai visto ragazzi, non ha mai avuto niente a che fare Eppure, in una delle tante foto apparse in questa stanza di Mimicchio Dove vediamo le foto di Pikachu, di Mimicchio Vediamo anche una foto di Ash e Pikachu Quindi hanno veramente ragazzi messo questa foto Guardate, la foto è concentrata su Pikachu ragazzi Infatti bisogna vedere che appunto Pikachu si vede molto bene Mentre la faccia di Ash l'hanno messa un po' sfocata apposta Sono veramente degli infami, ma sono veramente nello stesso tempo geniali Perché hanno messo tutta l'attenzione su Pikachu Però ragazzi, quello, i vestiti sono palesemente quelli di Ash Cappello rosso, maglia blu e bianca, quelle con le maniche bianche Quello è palesemente Ash Ok, mi è solto un po' il dubbio all'inizio che potesse magari essere Red Quel personaggio di ragazzi Guardate lo bene Non si può molto vedere, non si vede bene la faccia È impossibile vederla bene, quella faccia Però, a me ricorda veramente la figura di Ash Anche la faccia si vede, si intravede un pochino Si vedono anche un pochino gli occhi ragazzi Sotto quel bianco che hanno messo, quelli di Game Freak Che sono veramente geniali Però, sinceramente, mi sento di dire che quello sia un easter egg Questa foto sia un easter egg di Ash e Pikachu Già abbiamo avuto ragazzi Ash Il gringe di Ash che ci è stato consegnato nella demo E ok Poi Ash nel gioco non l'abbiamo minimamente visto Anche perché ragazzi Ash in questo gioco al momento non esiste praticamente Non è che abbiamo visto la figura di Ash Però hanno messo, hanno piazzato questo easter egg Che è stato visto veramente da pochissimi Perché è molto nascosto ragazzi Perché chi va a vedere questa foto quando c'è un mimico dietro che ti vuole assalire? Nessuno penso, pochissimi Però, per farvi vedere, hanno messo ragazzi appunto questa foto Di questo possibile Ash e Pikachu Veramente, non ho parole Io me ne ero completamente persa Poi ho visto questa immagine su web E ho visto, no vabbè E ho detto, no vabbè L'hanno veramente fatto ragazzi L'hanno veramente fatto E quindi, ragazzi Game Freak è stato veramente molto furbo Ha messo questa foto di Ash Proprio in un momento in cui Nessuno ci avrebbe fatto caso Infatti tutti eravamo presi da mimichio E non ci siamo accorti che c'è una foto di Ash Con Pikachu Beh ragazzi Questo è veramente un grandissimo easter egg Quindi voi ditemi nei commenti cosa ne pensate E se il video vi è piaciuto Anche un bel like ragazzi Per supportarmi Beh, dopo questa foto Io ragazzi chiudo il video Quindi un saluto da Rochat E ovviamente Bye bye ragazzi